Inizio a pensare che ci vogliono segare tutti. Come tutti. Io devo andare a Londra quest'estate. Beh, io da te mi farei segare volentieri. Qui c'è un'unica soluzione. Sarebbe? Stare attenti. In che senso? Ti immagini io che sto attento in classe? Che vergogna. Beh? Che è sto silenzio? Niente, perché? La vogliamo ascoltare, professore. Che vuol dire che mi volete ascoltare? Beh, che stavolta la gazzetta la legge il pomeriggio. Dai, prof! Tra l'altro non avevo preparato niente per oggi, no. Noi dipendiamo dalle sue labbra. Allora, oggi spieghiamo... Senti, sbrigati che già mi orgogno come un ladro. Va bene, allora, spieghiamo... Spieghiamo... Vuole un po' di zuccheri? Spieghiamo. Sbrigati. Spieghiamo. Andò avanti così per 28 minuti. Esagerano, eh? L'ha detto anche il Presti che gli piacciono le iperboli ai ragazzi. Classe Z, dal 30 marzo al cinema.